ciao raga nuovo viola blog di oggi numero 17 oggi nuova location per il viola blog sono in compagnia della mia fidanzata ciao sto usando il suo macbook bianco che schifo meglio il mio no 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 non diciamo stronzate allora grazie a tutti i nuovi iscritti c'è anche la gattina laggiù ciao che sbadiglia ora se viene qua poi ve la faccio vedere e oggi vi parlo di un programmino che si chiama wall saver praticamente vi mette il vostro screensaver preferito come sfondo del vostro mac allora vi metto anche il link poi dopo sulla destra di youtube allora andiamo a vedere come funziona questo programma allora andiamo a aprire wall saver allora praticamente vi avete tutte le vostre preferenze allora se andate su preferenze su choose qua vedete potete scegliere il vostro sfondo non ne prendiamo una a caso per esempio facciamo select poi andiamo su wall saver e facciamo activate ed ecco qua il vostro screensaver come sfondo del vostro mac molto 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 semplice programmino carino da prendere per far impazzire gli utenti di windows che non ce l'hanno se poi volete ritornare al vostro sfondo normale fate restore ed ecco siete ritornato al vostro sfondo normale perfetto vi ho la blog veloce veloce oggi perché non sono a casa mia quindi non rocchiamo tanto le scatole e ci sentiamo al prossimo vi ho la blog un saluto a tutti ciao ciao